buongiorno a tutti quanti alle ore 15 e 30 minuti venerdì 30 settembre 2022 ci sono 18 gradi 18 gradi qua a Pustero è cominciato a fare freddo 15 e 35 sbagliato 5 minuti sbagliato comunque sta piovendo fuori e da domani ricomincia il sole con 25 26 gradi speriamo e chissà pioggia non ne posso più vi auguro una buona giornata a tutti quanti ci sentiamo stasera ciao a tutti